E' stato organizzato a Catanzaro un sit-in dai sindacati CGL Cisle Will per denunciare la situazione di emergenza in Calabria sul tema di incidenti sul lavoro. Dopo le recenti tragedie avvenute sul territorio calabrese, come la morte dell'operaio travolto e ucciso da un'auto in corsa mentre segnalava un incidente avvenuto poco prima sulla strada statale dei Due Mari alla Mezzaterme, i sindacati hanno presentato al prefetto di Catanzaro un documento nel quale avanzano una serie di richieste a governo in Regione Calabria. Tra le richieste i sindacati chiedono più assunzioni all'ispettorato del lavoro e nella medicina territoriale, l'istituzione di una procura nazionale, una maggiore prevenzione e il potenziamento dei controlli e in asprimento delle sanzioni nei confronti di imprese che non rispettano protocolli di sicurezza. Con questo sit-in i sindacati vogliono porre la nostra regione come apripista per un cambio di passo reale sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro.